Musica Cari amici di Pettini Feeder, oggi siamo a Santa Maglioneo, uno splendido scenario Santa Maglioneo è quello alle mie spalle, qui siamo sulla Punta Meliso il confine a terra tra i due mari, il mare di Atrico che abbiamo davanti a noi e il mare Ionio alle nostre spalle in questo splendido scenario effettuiamo delle sessioni di pesca Feeder Fishing utilizzando il classico Cache Feeder, Rockman, Open Hand ma anche in queste condizioni di mare, per esempio il mare morto mosso utilizzeremo anche i Floating Feeder, quindi dei pasturatori carreggianti come i Chompers che ci permetteranno appunto di insediare le specie di superficie come occhiate, salaghi e bocchie Il filmato di oggi più che un filmato sulla pesca qui nel Salento vuole essere un modo per farvi conoscere i miei scenari bellissimi scenari che abbiamo qui appunto nell'estrema punta del Salento a Santa Meli di Leuca con scogliere alte a strapiombo, scogliere basse con fondali importanti anche a pochi metri da riva naturalmente ci sono anche fondali salbiosi è veramente una vastità di hot spot ottimi per le nostre sessioni di pesca quindi più che farvi vedere oggi la zona di pesca vele propria che comunque non mancheranno in questo filmato vi faremo vedere appunto questi bellissimi luoghi di pesca il nostro canale Grazie a tutti. Come vi avevamo pronunciato oggi pescheremo a Floating Feder, viste le condizioni del mare è abbastanza mosso, quindi utilizzeremo dei pasturatori galleggianti come i Chompers di Nisa che riempiremo con un mix di pastura, male nostrum e male espress e bigattini. La montatura è molto semplice, praticamente monteremo a scorrevole una girella sulla lenza madre a cui appunto collegheremo il nostro Chompers e poi un finale di circa due metri del next floor in dello 014 con un armo della serie 10 del numero 14 che ne escheremo con bigattini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.